Furto presso il negozio di telefonia in via Brodolini a Battipaglia. I gnoti si sono introdotti questa notte all'interno dei locali, verosimilmente fra le 3 e le 4, facendo razzia degli smartphone di varie marche presenti negli espositori. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che a breve acquisiranno i filmati delle videocamere di sorveglianza per provare a risalire ai responsabili del colpo. La stessa gang potrebbe essere responsabile di un altro tentato colpo compiuto sempre ieri notte in un'attività simile in via del Centenario. Piero, questa mattina è cominciata con una brutta sorpresa. Assolutamente sì, mi hanno contattato i carabinieri intorno alle 4 e 30 avvisandomi che avevamo avuto una visita poco gradita e abbiamo trovato il negozio svaliggiato. Mi hanno portato via tutto quello che era all'interno in termini di telefoni, computer e quant'altro. Più o meno il valore stimato della lei furtiva? Stiamo stimando il valore diverse migliaia di euro. Stiamo ancora facendo un attimino l'inventario di quello che era a terra in magazzino. Sui social hai detto che vengo da Siera e non sono abituato a questo tipo di misure di sicurezza. Sì, infatti il problema è stato questo. Realmente il mio livello di guardia è troppo basso, abituato a territori gestiti molto meglio dal punto di vista della sicurezza. Non avevo adeguato le giuste misure e quindi i danni poi li paghiamo cari amari. Sono stato 16 anni a Siena dove ho creato questa impresa che è l'Aerestore, un franchising di riparazione di smartphone e tablet che si estende su tutto il territorio italiano. Dopo 16 anni ho deciso di ritornare nella mia amata battivaglia, ma la scelta è stata poco opportuna. Come si sono introdotti all'interno dei locali ladri? Hanno forzato la porta d'ingresso, divelto la serranda e basta, con tecniche abbastanza note ai miei concittadini. Un colpo comunque mirato a quanto pare? Assolutamente sì, chi è venuto sapeva già cosa poteva trovare ovviamente, quindi magari anche i fantomatici clienti che avevano fatto visita al negozio nei giorni precedenti ad oggi. Grazie per la visione!